ciao a tutti oggi prepareremo il burro di arachidi il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa più 60 minuti di riposo in frigorifero ingredienti sono arachidi sgusciate sale zucchero di canna e olio di semi diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale le arachidi che non devono essere salate un pizzico di sale e lo zucchero di canna e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 questo sarà il primo risultato adesso con l'aiuto di una spatola spingiamo sul fondo gli arachidi e facciamo tritare per altri 10 secondi a velocità 10 il composto inizia a prendere la consistenza di una crema continuiamo a riunire sul fondo il boccale sempre con l'aiuto di una spatola continuiamo a far tritare sempre per altri 10 secondi sempre a velocità 10 adesso il composto sarà sempre più vicino alla consistenza del burro continuiamo a riunire sul fondo recuperiamo anche quello che è finito sul coperchio adesso versiamo l'olio di semi e continuiamo a frullare chiudiamo con il coperchio posizioniamo il misurino per 15 secondi a velocità 7 il composto a questo punto sarà in questo stato sempre più vicino al burro riuniamo sul fondo sempre con l'aiuto della spatola adesso per l'ultima volta frulliamo per 15 secondi sempre a velocità 7 il burro è pronto trasferiamoli in dei vasetti di vetro che abbiamo precedentemente sterilizzato e facciamolo riposare in frigo almeno 60 minuti burro di arachidi grazie e alla prossima ricetta ciao Grazie a tutti.